Andate a votare alle prossime elezioni comunali, adesso che sto girando incontrando tante persone mi fa sempre molto piacere che mi dicano che hanno fiducia nell'organizzazione del cambiamento ma le persone che mi danno ancora più gioia, ancora più soddisfazione sono le persone che ammettono di non andare a votare da anni e mi annunciano che alle prossime amministrative invece andranno a votare, non lasciate che siano altri a decidere il futuro della vostra famiglia, dei vostri figli, votare è un diritto e dobbiamo esercitarlo, io spero che voi lo esercitiate bene, mandando a casa coloro che hanno distrutto Cerignola negli ultimi vent'anni e dando fiducia alla coalizione del cambiamento, come dico sempre questa è la vostra arma, basterà una matita per cambiare tutto a Cerignola.